Continua e incessante l'attività della Procura sul fronte antidroga. Non solo indagini su stragi e gravi fatti di mafia. Il Procuratore della Repubblica, Sergio Lari, intervenuto nell'ambito dell'operazione Cobra 2, ha espresso soddisfazione anche per il lavoro svolto dalla mobile Nissena nell'attività di contrasto alla criminalità cosiddetta comune. L'impegno della Procura continua a 360 gradi su un fronte delicato e preoccupante. Per quanto il mio ufficio sia impegnato in indagini importanti sulle stragi del 1992, noi non tralasciamo anche di occuparci del contrasto della criminalità comune e soprattutto, come hanno dimostrato anche le recenti operazioni su Enna, nel contrasto del fenomeno della diffusione dello spaccio delle sostanze stue facenti. Soprattutto come con la recente operazione, quando si tratta di organizzazioni criminali che dedite allo spaccio della droga nel mondo dei giovani. In questo caso avevano un spaccio di hashish, marijuana e cocaina soprattutto nel mondo dei giovani e dei giovanissimi e anche minori etni. E quindi era un'attività criminale che andava stroncata. In questo senso la squadra mobile di Caltanissetta ha compiuto un'opera veramente meritoria.